Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale E' strano parlare di calcio mercato a novembre Perché dovremmo parlare di calcio mercato a novembre? Eppure qualche giorno fa vi ho detto Signori, a limite di mercato potete sentire qualcosina legata ai parametri zero Non di sicura delle trattative da imbastire tra società Perché non è periodo, perché magari ci sarà una chiacchierata così Oh ma gennaio ne parliamo? Sì no, basta, ma zero cifre, zero dettagli Io ho visto per esempio che su Ronaldo c'erano già delle cifre, interessamenti e cazzate varie Non può esserci nulla di tutto ciò E vi ho detto anche della scorretezza di Leonardo Che si è messa a parlare a mezzo stampa di giocatori di altre squadre E di una roba che un direttore sportivo non potrebbe mai fare Perché per parlare di giocatori di altre squadre Devi avere il consenso della squadra che ne detiene il cartellino E questo ovviamente non penso che sia accaduto Fatto sta Lasciamo perdere, la prossima volta il buon Leonardo si ficchi una mela in bocca per non dire altro E la smetta di rompere il cazzo Essenzialmente a mezzo stampa Però, però, c'è qualcuno che potrebbe arrivare a zero l'anno prossimo? Perché questa notizia è stata lanciata dal Ceringhito TV E il Ceringhito TV a quale squadra è più vicino? Ovviamente al Real Madrid Stiamo parlando ragazzi di Sergio Ramos Sergio Ramos alla Juventus vi piacerebbe l'anno prossimo Vi ricordo che però ha 34 anni Attualmente piglia 12 milioni di euro di ingaggio E quindi è probabile che se qualcuna Qualche squadra andrà a prenderlo Dovrà rimanere attorno a quella cifra Non credo che andrà a spendere molto di più dell'ingaggio Che viene attualmente dato al giocatore e al ragazzo Perché ha una certa età Insomma, sta chiedendo un triennale Quindi si va dai 34 ai 37 Questo è importante da capire Fino a 37 anni 36 milioni totali di ingaggio Però, secondo il Ceringhito TV Dietro il giocatore c'è l'interesse potente Della Juventus e del Manchester United Quindi Juve è interessata a Sergio Ramos Ma perché la Juventus dovrebbe essere interessata a Sergio Ramos? Premetto una roba importante I difensori centrali giovani Sono quelli che puntualmente fanno più cagate Queste cagate le paghine i grandi palcoscellici Dove c'è l'esperienza, dove c'è la tecnica E in Champions League l'inesperienza di un calciatore tipo Costar Caro Quindi, a mio parere, è sempre giusto avere un bel mix Di gente che abbia esperienza E di gente con poca esperienza Ma con grande potenziale È il caso di De Ligt e De Milano alla Juventus Però, abbiamo un problema in squadra Che si chiama Giorgio Chiellini Che quest'anno non possiamo tenerne conto Per il proseguo della stagione Possiamo tenerne conto dal momento in cui lì in squadra Ma a quel punto diventa un bonus Perché non è l'ordinario Perché ormai ha una fragilità fisica Che non gli consente di essere sempre disponibile Nel momento del bisogno Per cui non ci puoi fare affidamento E mi dispiace perché io Chiellini lo adoro È un giocatore straordinario Uno dei migliori marcatori, a mio parere, della storia del calcio Come marcatore Però il fisico non gli sta più leggendo Io credo che ci dovrà essere una successione da questo punto di vista Dovrà esserci qualcuno che andrà a sostituire Giorgio Chiellini Se rigeneriamo se è il nome idoneo A mio parere sulla carta sì Tre anni di ottimo livello ce li può assicurare? Non lo so Qua credo che serva un'analisi sulla sua condizione fisica Sullo stato delle sue articolazioni Il tipo di muscoli che ha Se sono soggetti a infortuni o meno Io vedo che comunque lui è sempre molto presente nelle stagioni del Real Madrid Giocano marea di minuti È poco soggetto a infortunarsi È di grande esperienza Ragazzi, francamente Guardando i nomi che hai alla Juve Togliendo Chiellini E mettendo Danilo come nuovo centrale Potresti avere un trio lì dietro Danilo Delict Ramos Danilo Bonucci Ramos Delict Bonucci Ramos Cioè, da paura che prendi e abbassi le serrande E dici qui non si passa più E senza contare che c'è Demiral C'è Meri Demiral Che potrebbe scalpitare E si impara un pochettino a addolare E a limare Quei suoi difetti Insomma, potrebbe diventare anche lui Un ottimo difensore Un fortissimo difensore Però là veramente chiudi le serrande E dici qua non si passa Però attenzione Perché il Manchester United Ha comunque una potenza di fuoco importante È una potenza di fuoco importante Lato cash Però ci potrebbe essere anche il PSG Che a quanto pare ha proposto Un assegno in bianco A Ramos Della serie La cifra falla a te Vieni Come al solito Una squadra senza progettazione Senza un minimo di nulla Una squadra che progetta Suon di petrol dollari E fa squadre di figurine Ripeto Non mi ripeto Sul buon Leonardo Perché altrimenti qua Inizio a vomitare e odio Perché Leonardo Deve ficarsi Ripeto Una mele in bocca Deve stare muto Prima di parlare di Leonardo Perché Vi ho detto che non si parla Di trattativa eccetera Leonardo Lo ha fatto Ed è stato parecchio scorretto Nel farlo Quindi occhio Perché Noi in squadra Abbiamo un giocatore Che potrebbe Aizzare Quel tipo di Di voglia Di Ramos Di vestire la maglia Della Juventus Saremo Ragazzi Diventiamo la squadra Più antipatica Del pianeta E sappiatelo Cioè se viene Ramos Alla Juve Diventiamo la squadra Più antipatica Del pianeta Perché Ramos È antipatico Io personalmente Lo stimo come calciatore Perché È un figlio di puttana Ma i figli di puttana Quando ce li hai Dalla tua parte Sono i migliori Sono quei giocatori Che ami Sono quei giocatori Bastardi Con la malizia giusta Che ti fan vincere Però Questo è importante E Per quanto riguarda In squadra Alla Juventus Abbiamo un altro giocatore Un certo CR7 Immaginatevelo Che gli dice Si aspetto Beh io credo Che Insomma Qualche pensierino Ramos lo farà Però insomma Manca parecchio A giugno Manca parecchio A gennaio e febbraio Quando appunto Il giocatore può iniziare A trattare con le squadre Che Mi interessano Io non escludo Alla fine Il colpo di scena Il colpo di spugna Del Real Madrid Che gli propone È un contratto faraonico Lo fa rimanere là Insomma Diventa un giocatore Storico Di quella maglia Insomma Tutte le cagate Varie Che vengono fatte Per celebrare Sti giocatori Chiudiamo sto video Con due menzioni particolari Perché in questi giorni Di Sosta di merda Delle nazionali Dobbiamo parlare di Mekenni E di Danilo Perché hanno parlato Danilo Si trova benissimo In questa Juventus Ha dimostrato A mio parere Anche di avere La mentalità da leader Che non è una roba Che l'anno scorso In lui avevamo visto Vuoi per le prestazioni Vuoi Insomma Per l'importante Invece Quest'anno Lo vedo molto inserito Molto inserito Quindi sono parecchio Contento E ha detto Che si trova benissimo Alla Juventus Che va a bere Il caffè con Ned Insomma Tante belle cose Si sta trovando bene Ma si vede E sereno Parlato Bernardeschi Anche Poi ne parliamo Anche di lui Mekenni Mekenni Che è stato il migliore Nella partita di ieri Degli Stati Uniti Vottato da tutti Come MVP Della gara Ha detto che Per lui era strano No Venire alla Juventus Trovare tutte queste leggende Buffon Con Ronaldo Ma insomma Si è inserito subito Con Ronaldo Scherza e chiacchiera Tanto Con Buffon Buffon un fratellone Tanto è vero che Buffon lo chiama Big Mac Come Vabbè Non è che sia tanto originale Però insomma Si trova parecchio bene Nello spogliatoio Ed è integrato Perfettamente Dice che per un giovane Non è una roba normale E invece Alla Juve Devo dire che si è trovato Subito bene Bernardeschi Ha riparlato invece Di Maurizio Sarri Dicendo appunto Che Con Sarri C'erano delle incomprensioni Ragazzi Ora io non per Ma quando vi ho detto Che mancano i presupposti Per continuare Deve esserci una piena collaborazione Tra giocatori e allenatore Tra allenatore E società Se mancano questi livelli Di fiducia E di stima reciproca È difficile Continuare un rapporto Di lavoro È difficile Voi mi dicevate Sì Se il solito aziendalista Aziendalista Un cazzo State sentendo tutti Dalla diligenza È dallo spogliatoio Che è arrivato Scrivetemi sotto Cosa ne pensate Di Ramos Che sono curioso Sono curioso Scrivetemi sotto Scrivetemi sotto